Aiuti economici sotto forma di rimborsi, spese e viaggio. La legge regionale 21 maggio 2014 sulle provvidenze sociali a favore dei malati oncologici non è mai entrata in vigore perché impugnata dalla Corte Costituzionale causa scadenza di mandato. Si sarebbe votato quattro giorni più tardi. E noi abbiamo posto questa norma proprio in carico alle politiche sociali anche per ovviare eventuali altre impugnative per il piano di rientro, il commissariamento della sanità. Quindi io ritengo che maggioranza e opposizione non possono far nient'altro che approvare questa legge, questa norma a favore delle persone che in questo momento stanno soffrendo. La regione non si è costituita in giudizio di legittimità e così il Movimento 5 Stelle porta in Consiglio regionale la proposta di renderla effettiva. Prioritariamente rimborseremo i redditi più bassi fino poi ad arrivare a tutti gli altri fino ad esaurimento delle risorse. La legge si compone di sei articoli che comprendono fondi, modalità di accesso, modalità di stanziamento. Spiega pettinari per le famiglie con un malato oncologico o soggetto a trapianto sono stati reperiti 200.000 euro come fondo sociale destinato alle politiche sociali distribuiti a partire dalle condizioni di reddito più disagiate fino ad esaurimento del fondo. In questo momento gli uffici regionali non ci hanno fornito i dati di quanti malati oncologici ma proprio per questo abbiamo introdotto un comma abbinato ad un articolo che obbliga, laddove si confermasse appunto questa norma, obbliga ad una ricognizione di tutte le situazioni presenti nella nostra regione e dentro la scadenza del 30 ottobre di ogni anno questi dati devono essere trasmessi alla regione e alla regione poi provvederà a rimpinguare negli anni successivi proprio alla luce di questi dati il fondo. Spiega il capogruppo regionale Sara Marcozzi in campagna elettorale l'attuale presidente della regione Luciano D'Alfonso prometteva coccole per i malati. Finora non ne abbiamo viste questa proposta di legge sarà un modo per vedere se manterrà le promesse fatte.